No ragazzi, guardate a questo, guardate a questo, e poi dicono che finiscono, danno la colpa ai camion, guarda, 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 ma non so se vi pare normale, guarda, guarda che giochetti che fanno, vi pare normale una cosa simile, vero? Questo è quello che si trova, eh, quando ci sono questi che viaggiano, e tutti i giorni, ma robe nere, robe nere, robe nere, e poi dicono, ah, mettete le telecamere negli angoli ciechi, ma se ti metti a giocare così, guarda, 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 io veramente, non ho parole. Ma voi pensate se a questo gli scoppia una gomma, qualcosa, no? Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda.